Mi sorprendono le polemiche di questi giorni. Io non ho mai parlato di trasferimento immediato del Plesso San Francesco, ho solo provato ad individuare delle soluzioni che avrebbero potuto avere un riscontro immediato solo se fossero state condivise. Rompe il silenzio l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Sciacca, Maria Antonietta Testone, in ordine alla vicenda del trasferimento del Plesso San Francesco in altra sede, dopo l'indisponibilità a continuare ad ospitare le classi da parte del padre provinciale dei frati Cappuccini. Eppure qualche settimana fa era stato ipotizzato un trasferimento già nel prossimo mese di dicembre nei locali del secondo circolo didattico Sant'Agostino. Assessore Testone, dunque per l'anno scolastico in corso il Plesso San Francesco rimarrà nei locali dei frati Cappuccini. Partiamo da questo. Partiamo da questo perché questo è il punto di partenza che non è mai stato messo in dubbio, nel senso che anche la soluzione che è stata trovata quest'anno per mantenere lo stato delle cose attuali era proprio quello di dire per quest'anno rimangne il Plesso San Francesco. dal prossimo anno le prime classi incominceranno un graduale trasferimento, cosa che evidentemente non ha incontrato delle difficoltà dal punto di vista pratico sia per quanto riguarda la continuità didattica o è anche soluzione non perfettamente condivisa da alcuni genitori che hanno i bambini che poi frequentano sia la prima che altre classi in quel plesso. Perché però arrivati ad un certo punto si è parlato di un possibile trasferimento in altra sede già durante il periodo delle festività natalizie? Non credo che si è mai parlato di questo immediato trasferimento. Il trasferimento era nell'ipotesi di una soluzione che era condivisa e quindi accettata dalla stragrande maggioranza delle persone coinvolte in questo problema. E quindi ci sono stati degli incontri proprio per addivenire ad una soluzione ragionata. Evidentemente ci sono molte difficoltà ma è anche vero che l'amministrazione non può impegnarsi per un futuro anno scolastico e prendere impegni. Perché è chiaro che l'amministrazione che verrà potrà non considerare quello che viene deciso in questo momento. Ma questo è sempre stato detto. Io ho cercato soltanto di porre le basi per una scelta condivisa. Solo questo. L'assessore Testone replica poi alla dirigente del secondo circolo. Il colloquio con la Maffei c'è stato, precisa l'assessore, è avvenuto fuori dal contesto scolastico per mera cortesia istituzionale essendo la dirigente inaspettativa. In ogni caso i dirigenti scolastici devono sapere che l'amministrazione ha diritto e facoltà di disporre degli edifici scolastici senza bisogno di nulla osta e autorizzazione da parte dei dirigenti. L'incontro c'è stato ed è chiaro che è un incontro che è dovuto solo ad una questione di cortesia istituzionale perché l'amministrazione dispone dei locali. Quindi non ha bisogno di nessun nulla osta e di nessuna autorizzazione. Ma è chiaro che appunto cortesia istituzionale vuole che si informino le persone che sono coinvolte. Quindi io ho incontrato la dirigente, ho avuto una disponibilità di massima della dirigente fermo restando che sono sempre provvedimenti che determinano un disequilibrio in quello che è stato precostituito in ogni scuola. Quindi è chiaro che ognuno tende a salvaguardare il proprio. Quindi non è che ci può essere il plauso per l'amministrazione che sceglie e porta avanti queste scelte. Però era stata preventivamente informata. Ho voluto gettare le basi per individuare una soluzione già a partire da ora, posto che dal prossimo anno scolastico il Plesso San Francesco dovrà lasciare i locali dei frati Cappuccini, conclude l'assessore Testone, nella consapevolezza in ogni caso che qualsiasi soluzione potrà essere messa in discussione dall'amministrazione che verrà. Io ho deciso di occuparmi perché la politica dello struzzo non fa parte del mio modo di essere. Quindi c'era questo problema. Ad inizio di anno scolastico i frati hanno manifestato la loro contrarietà al permanere di questa situazione. Eravamo ad inizio di anno scolastico e quindi ho trovato un accordo con i frati e dire per quest'anno salvaguardiamo lo stato delle cose e dal prossimo anno poi le prime classi incominceranno ad avere un graduale dislocamento anche per dare un segnale all'amministrazione ad andare incontro alle esigenze dei frati. Ma è chiaro che in questa prospettiva in cui non ci sono assolutamente condivisioni così allargate è un problema che dovrà affrontare l'amministrazione futura perché non ci possiamo impegnare per altri. Questo è sempre stato detto.